Gli agricoltori dopo l'alluvione nel metà pontino, bisogna fare presto, dicono, prima che nuove piogge provochino altri danni. E per noi, in diretta a Serra Marina di Bernalda, Luigi Di Lauro. Luigi, com'è la situazione lì? Beh, il comitato Difendiamo le Terre Ioni che è tornato in piazza proprio per vedere riconosciuti questi diritti. Il 7 ottobre, terribili momenti al confine tra Puglia e Basilicata, quattro vittime, danni ingentissimi. Due territori, la Puglia e la Basilicata, di nuovo insieme per continuare una lotta che è iniziata due anni fa. Sì, è iniziata due anni fa e oggi diciamo che questo territorio è stato compromesso da una situazione che nessuno di noi si aspettava. Qua c'è in ballo tutta l'economia di due regioni, la Puglia e la Basilicata, perché il nostro prodotto, il fiore all'occhiello d'Italia, se vogliamo dire, da tavola che il prodotto che in primis viene considerato un prodotto di alta qualità è stato compromesso. Ci sono circa un milione di quintali che andranno a finire nelle cantine. Se le cantine continueranno a ritirare questo prodotto, perché alcune cantine hanno chiuso e non ritirano nemmeno più il prodotto, ci pagano questo prodotto a 6 centesimi, è un territorio messo in ginocchio. Io chiedo al Ministro dell'Agricoltura se si mette un attimino nei panni della gente che qui ha investito tutto quello che aveva per un prodotto che è andato a finire al macero. Un prodotto che è andato a finire al macero, una situazione drammatica, così come drammatica per le aree interne. Marconia di Pisticci, come la stessa area industriale di Bernalda, sono state colpite violentemente. Anche voi avete deciso da quelle zone di aderire alla protesta di questo comitato? Sì, sicuramente. Noi abbiamo decine e decine di famiglie che sono disagiatissime. Abbiamo tante imprese commerciali, tanti negozi che sono in ginocchio. Noi aderiamo all'iniziativa del comitato Difendiamo le terre ioniche, anzi do appuntamento a tutti gli operatori commerciali di Marconia, non solo agricoltori, insieme a loro, domenica in Piazza Elettra alle ore 18 per manifestare insieme con un'assemblea popolare. Una situazione che dicevamo drammatica, qualche cosa si è fatto però in questi due anni. Allora vediamo il servizio della collega Beatrice Volpe che è andata sul fiume Basento. Ecco il Basento che scorre fra i territori di Pisticci e di Bernalda. Scorre, e questa è veramente una buona notizia, ma scorre grazie agli interventi di manutenzione e di pulitura dell'alveo dalla vegetazione spontanea che sono stati effettuati dal commissariato per la mitigazione del rischio idrogeologico di Basilicata. Interventi che non sono costati molto, ingegnere. Sono costati 500 mila euro, c'è un finanziamento di 500 mila euro per la pulizia dell'alveo. I risultati sono straordinari. Torre Accio di Pisticci che è uno dei luoghi in cui più spesso ci sono alluvioni, in cui i campi finiscono sott'acqua, per una volta è risultato indenne. Sì, è risultato indenne perché il fiume ha avuto la sua funzione, cioè ha fatto defluire le acque, perché era libero dalla vegetazione che ostruiva il passaggio delle acque. Ingegnere Acito, sono stati compiuti dei lavori straordinari, lavori che appunto hanno avuto dei costi contenuti, anche questa è una buona notizia per la comunità. Adesso interverrete sull'Agri, c'è in programma un altro intervento sul fiume Bradano nella parte finale, ma gli interventi sono una cosa, la manutenzione è un'altra ed è sempre più vincolante. Sì, assolutamente. Lo sforzo compiuto, grazie all'accordo di programma Regione e Ministero dell'Ambiente e all'impegno dell'Ufficio di difesa del suolo di Matera, ci ha dato la possibilità di avere questo piacere finalmente, che pur in presenza di una situazione abbastanza drammatica, il basento non ha esondato. La spesa che si è ottenuta, seppure modesta, è comunque una spesa che è gravata sulla comunità. Far ripetere questi interventi sarebbe doppiamente colpevole. Interventi che non droveranno ripetersi, prima di domenica il prossimo appuntamento è fissato per giovedì mattina alle 9, proprio qui a Serra Marina, per una grande manifestazione di protesta per vedere riconosciuti i diritti degli alluvionati. Per il momento da Metaponto è tutto, io vi restituisco la linea.